Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa mini recensione della versione desktop di Remix OS. Nei prossimi giorni verrà rilasciata un'immagine installabile di Remix OS, utilizzabile anche tramite live, per i nostri PC. Si tratta appunto di un sistema operativo basato su Android, avete avuto modo di darci uno sguardo negli scorsi mesi perché ho pubblicato alcuni post sull'argomento, che ha come caratteristica una interfaccia che è usabile in tutto e per tutto tramite mouse e tastiera. Si tratta appunto di un tentativo da parte di questa startup di fornire una versione di Android utilizzabile per la produttività domestica. A mio avviso, quello che sarebbe dovuto essere il Chrome OS, perché il retto Chrome OS, come avete avuto modo di vedere, è ancora lontano dall'offrire un parco software e quant'altro. Questo ibrido realizzato dai ragazzi di Remix OS non è altro che appunto un Android con tutta la potenzialità dell'applicazione di Android, però scondito in, fatto in salsa desktop. Non so se questa Reked che è apparsa su Reddit sia o meno la versione finale, perché penso proprio di no. Beh, spero. Perché alcune applicazioni da quel che ho potuto vedere non sono attualmente funzionanti, quindi ipotizzo appunto che questa sia una Reked di una versione un pochettino precedente. E che quindi, fra qualche giorno, verrà rilasciata una versione più completa. Diamo uno sguardo al sistema operativo. Come potete vedere c'è un menu applicazioni, che è possibile dividere per data, per uso, quindi possiamo catalogare le applicazioni in diverse categorie. Questa è la calcolatrice, nulla di che. Andiamo a vedere se ci sia qualche altra applicazione. Troviamo preinstallato applicazioni Drive, Documenti e quant'altro. In questo momento non ho collegato un account per poter utilizzare i documenti, quindi non vi posso far vedere come va. Però vi posso far vedere tutte le altre componenti. Questo è il File Manager, come potete vedere, documenti, picture, musica, movie, download. Andiamo a vedere per esempio un video. Ecco, questo è un video di presentazione. Come potete sentire l'audio c'è, quindi funziona tutto regolarmente. C'è la possibilità di chiudere sempre quello a X. Allora, andiamo a vedere ad esempio alcuni screenshot. Questo è uno screenshot che ho fatto prima. Come potete vedere funziona tutto a meraviglia. Questo sta su una pen drive USB 2.0, quindi la velocità è anche buona. Andiamo a vedere le impostazioni in sistema. Impostazioni per il Wi-Fi. Impostazioni per la connessione Ethernet. Bluetooth. VPN per la stampa. Impostazioni dei display, quindi la possibilità di cambiare il display, lo sfondo. Ad esempio, questo è molto carino. Torniamo indietro. Possibilità di cambiare il tempo di inattività per la sospensione. Rotazione automatica dello schermo. Sound. Abbiamo tutte quante le voci relativi ai volumi. Lingua in missione. Primo avvio, il sistema operativo, è in lingua inglese o massimo cinese. Qui comunque potete impostare la lingua italiana e quindi farlo girare. Date e ora. Applicazioni di default. Quindi è possibile cambiarle. Gestione notifiche. Applicazioni. Tutte le applicazioni installate. Quindi è possibile terminarle e quant'altro. Quello classico che succede su Android. Gestione di sicurezza, credenziali e quant'altro. Geolocalizzazione. La gestione dell'account. Strumenti per l'accessibilità. Feature sperimentali. Non andiamo a modificare niente. Un po'. Qui per effettuare un reset. E qui le informazioni. Ci dà le informazioni. Informazioni legali. In questo caso va a leggere le informazioni sul mio computer. che è un HP paviglio. La versione di Remix OS è la 2.0. La versione di Android è la 5.1.1. La versione del kernel è la 4.0.9. E poi ci sono OpenGL. Il numero di build è la 5.1.1-B201.5123002. Quindi vedremo se l'immagine finale sarà o meno diversa da questa. Spero. Spero proprio di sì. Qui invece è la try. Le informazioni sulle notifiche. Centro notifiche. Informazioni sull'ora. Wi-Fi. Strumenti. La tastiera. Il volume. Che poi i tasti multimediali funzionano. Tutti correttamente. Questo è un strumento per pulire la RAM. Ok. Andiamo adesso. Ad aprire. Ecco qui. Come avete avuto modo di vedere. Funzionava. Funziona molto bene. La navigazione. Vediamo che ne so il sito del Lanza. Giusto per non far vedere sempre Marcosbox. Comunque. E' Chrome. Quindi. Vediamo che versione è di Chrome. Che troviamo preinstallata. Era 42. Ecco. Clicchiamo qui. Mi app sta appena smentendo. Ho detto che era veloce. Allora. Vi faccio vedere anche un'altra cosa carina. Carina. Cioè. Un bug più che altro. Ecco questa nel frattempo. Mi si è aperto il sito. Vediamo un po' se si apre in desktop mode il corriere. Sì. Va direttamente in desktop mode. Questa è una cosa che ho notato. Nella riproduzione dei filmati HTML5. C'è qualche problemino. Ecco. Aspettiamo. A volte parte. A volte non parte. Ecco. C'è. C'è. Ci sono molti problemi. Come se il hardware non ce la facesse. L'avete visto? Ecco. Spiacente e impossibile di produrre il video. Parte o non parte. No. Sa manco lui che cavolo vuole fare. Comunque. Questa è la versione Reked di Renew XS. Faccio vedere che anche la telecamera funziona. Non fate caso all'accrocchio che ho messo su per poter far funzionare il corso. Per fare una ripresa. Come si deve. Questi sono i widget che si possono aggiungere. Nura di che. Penso che una volta ha messo qualche widget. Qualche cosa. Ecco qui. Praticamente una schermata a parte. Quella dei widget. Una volta che la mettete la dovete richiamarla. E vi ritrovate i widget. Nura di che. L'applicazione musica. Non funziona. MxPlayer. Non parte. Quindi come potete vedere. Molte applicazioni non funzionano. Ho anche provato a fare un test con un chiavetto USB. Per far partire. Per far partire alcuni file. Però non. Non li ha caricati. Non so come mai. Però questo qui che è presente. Il video di test. Che è presente all'interno. Dell'immagine. Del sistema operativo. Funziona. Funziona anche bene. Cioè l'ultima cosa. Il cestino. Qualità della gestione. È anche fatta bene. C'è. C'è anche. Il fatto che c'è l'adattamento. È possibile. Mettere a metà schermo. Funziona. Funziona. Funziona bene. Sono curioso di vedere. Come evolve la situazione. Come evolve questo sistema. Come evolverà. Nelle prossime. Nelle prossime. Nelle prossime release. Ma sono curioso. Soprattutto di vedere. Se. Alcuni. Big. Riusciranno ad adottare. Questa. Questa soluzione. Sui propri. Sui propri mini PC. Perché sarebbe interessante. Sarebbe anche interessante. Da possessore di mini X Neo. Se qualche. Se qualche. Diciamo così. Se qualche sviluppatore. Riuscisse a fare un porting. Per i mini X Neo. Sarei. La persona più felice. Di questo modo. Perché. Così sarebbe possibile. Poter utilizzare. Appunto come mini PC. E la cosa è molto. Mini PC vero e proprio. Ecco. E la cosa è molto. Molto gradita. Se avete domande. Fatemeli sapere. In calcio apposta. Vi lascerò il link. Al torrent. Che è circolato su Reddit. Se volete. Provare. Finta adesso. Se no. Aspettate. La versione finale. Che uscirà. Fra qualche giorno. Con questo concluso. Lunga vita. E prosperità. A tutti quanti. Ci vediamo. Alla prossima. Recensione. Bye bye.